Grazie per farlo maestro e per farlo mostrare l'esperienza e quindi con altri strumenti, gli strumenti fisici, l'aereo, la città, le nuove strumenti continuanti. Non siete dimostri spesso dalla necessità, ma dalla scelta. Beh, dalla curiosità, ma anche dalla possibilità di otterare delle scelte e anche di un altro vero. E speriamo che la nostra condizione tecnologica ci permetta di continuare a fare. Allora, per concludere, io credo che anche questa rivista può essere un'opinità nostra. Insomma, io ho detto qui, c'è il sito internet e l'ulto messaggio che vorrei lanciare, insomma, a concludere, è che forse faccio attenta una delle due citari che ho avuto la rivista, che ho avuto la rivista stessa anche qui, così è un città con discrezioni. La poichità, la poichità, la poichità, che è la dottoressa Schifani. Prima di un punto di cemento dovrebbe venire, ovviamente, un monte virtuale, un monte culturale che promette alle persone di sentirsi a casa potre realizzate in qualunque posto del mondo, senza avere la vostra insieme di casa, perché la prossima non la direzione di farlo oggi. Ok?